E questo è il buffet del nuovo hotel Gate a Abu Dhabi. I contenitori sono uguali, i spazi sono leggermente più ampi, quindi si deve camminare di più per farsi due omelette. Qui ci sono in più le frittelle, quelle di patate e patrizia. Quanto riguarda il pane e i cornetti, sono identici a quelle delle Ibis. C'è qualche candido in più. Hanno dell'uva sultanina, dei datteri in più dell'altro. Ma poi sostanzialmente è uguale. Cambia un po' l'atmosfera dove ci troviamo. Allora, grazie.